Buongiorno a tutti e benvenuti alle nostre lezioni di italiano per ucraini. Oggi, nella lezione numero 5, vi insegneremo i numeri da 0 a 10. Numeri, чисla, numeri, zero, null, zero, uno, один, uno, due, due, tre, tre, quattro, ciotere, quattro, cinque, piac, cinque, sei, schiste, sei, sette, sim, sette, otto, visim, otto, nove, deviet, nove, dieci, desi, grazie a tutti e arrivederci alla prossima lezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.